Visi stanchi, stress, starnuti improvvisi, mal di testa, sono le conseguenze per chi vive molte ore in ambienti chiusi. Cosa fare? Cambiate aria! L'ionizzatore d'aria Beghelli, dotato anche di aspirafumo, cambia la qualità dell'aria, dandovi aria più sana. Così chi passa molte ore nello stesso ambiente sentirà i vantaggi dell'aria ionizzata. Sarà migliore anche il risveglio. E per la camera, il soggiorno o vicino al computer c'è la prima lampada con l'ionizzatore. Ionizzatore d'aria Beghelli, migliora la vita, perché migliora l'aria che respiriamo. Ricciarelli sapori, lontano dai soliti dolci. Giovedì 17. Buongiorno. Brooke, sconvolta dalla notizia che Amber è incinta di un figlio di Rick, dopo aver cacciato via la ragazza in malo modo, rassicura suo figlio sul fatto che troveranno insieme una sola... Ma ancora? Ma cosa c'è da noi? Ma lasciate di stare un po' a questi due ragazzi. Lasciate di vivere questi ragazzi, poveretti. Buon pomeriggio amici, benvenuti al nostro consueto appuntamento con Beautiful e con Rio Casania Marsì, con alcol denaturato e sapone di Marsiglia. E con tutta la vastissima gamma di prodotti Rio Casania, assolutamente indispensabili per pulire a fondo tutte le superfici lavabili della casa e in grado di soddisfare tutte le esigenze. Ad esempio, volete un water splendente senza macchie e incrostazioni? Ecco l'eccezionale Rio Azzurro, che garantisce igiene e pulizia assoluta del water fino in fondo e poi con questo esclusivo profumo di mandorla. Ma ora facciamo un salto nello studio qui a fianco da Giorgio. Pulito, pulito Gabriella! Qui si sente profumo di pulito perché di fianco a me c'è Rio Casania Marsì, con sapone di Marsiglia ed alcol denaturato. Quindi casa pulita e profumata. Ma le nostre signore forse non lo sanno e noi consigliamo proprio questo prodotto all'interno del nostro show. Buongiorno! Ben ritrovate! Allora un po' di domandine sull'igiene, l'igiene della cucina perché deve essere pulita e igienizzata. È importante che entrano i bambini magari dove si lavora. A me piace molto farmi aiutare in cucina dai miei bambini però devo essere sicura che è pulito. Eh sì perché dove lei magari affetta il pane, queste cose, l'appoggio. Il frigorifero, i bambini vanno in frigo prendono la mela, l'igiene in frigo. È vero, quindi qualche prodotto che possa farvi sentire sicuro per quanto riguarda l'igiene ma vi piacerebbe, scusate, avere un prodotto che serva per questo ma che possa pulire anche la cappa, non so, oppure i fornelli incrostati. Magari, magari ci fosse. Abbiamo fatto una domanda fai rispondere, mamma mia non c'è mai tempo. Vi piacerebbe comunque questo prodotto? Magari, magari. Rio, casa mia, Marsì. Il prodotto c'è, vero Gabriella? C'è, è come? E allora signora, dov'è? Lo scriva. Proprio così, Rio, casa mia, Marsì con sapone di Marsiglia e alcol denaturato. L'ideale per un pulito più igienico, facile e naturale su tutte le superfici della casa. Piastrelle, pavimenti, bagno, cucina, ripiani, tutto pulito a fondo, poi con il massimo dell'igiene e senza fatica, perché non c'è bisogno di risciacquare e soprattutto niente sprechi, perché grazie alla sua particolare formula, metà gel e metà liquido, si può usare sia diluito che concentrato e poi sentirete che buon profumo di sapone di Marsiglia. Ora mi collego con casa di Carlotta e con la sua governante, così. Eccomi qui, spesa fatta, ho comprato tutto. Dov'è Rio, casa mia, Marsì con sapone di Marsiglia e alcol denaturato? E' finito e io lo voglio. Eccolo, Rio, casa mia, Marsì, pulisce profumi e pavimenti, elimina le impronte, pulisce tutto, i ripiani, i pencidi, il frigorifero, la cappa. Rio, casa mia, Marsì, scriva. L'ho appena comprato. E allora? Bisogna averne sempre una scorta. Rio, casa mia, Marsì con sapone di Marsiglia e alcol denaturato? E' indispensabile e non deve mai mancare in casa. L'ha scritto? L'ho scritto. Amiche, allora seguite anche voi il consiglio della governante di Carlotta. Rio, casa mia, Marsì con sapone di Marsiglia e alcol denaturato. Per avere il massimo della pulizia, dell'igiene e del profumo su tutte le superfici lavabili della vostra casa. Vi lascio a Beautiful, ci vediamo come sempre domani. Ciao, ciao! Oggi è l'ultimo giorno per abituarci al prefisso. Domani il prefisso diventa obbligatorio. Il profumo degli istanti preziosi. Tresor di Lancome. Nuovo argentil vaporizzatore. Si spruzza, si passa e tutto l'argento risplende, anche nelle cesellature più difficili. Che meraviglia i tuoi argenti. Che meraviglia i miei argentil. Argentil, il bello dell'argento. Capelli brillanti, di più. Da oggi capelli brillanti in ogni direzione, con il nuovo shampoo Pantene, che va oltre la superficie dei capelli, per farli brillare ancora più intensamente. La nuova formula di Pantene agisce su più parti del capello, mentre la provitamina B5 penetra all'interno fino alle punte. Pantene mantiene sane i tuoi capelli e li fa brillare intensamente in ogni direzione. Nuovo shampoo da System Pantene, per capelli così sani. Da farti brillare in tutte le direzioni. Canso Jungle. Pull home. Addio vecchio spazzolone, ora c'è Vaporì, lo spazzolone a vapore. Per pulire a fondo, senza fatica. Si ricarica con acqua e riparte subito. Grazie Vaporì. Vaporì e Vaporì Glass sono solo ariete. Comoda la vita. C'è chi lo scopre ogni giorno, chi lo ama in compagnia, chi è cotto per lui. E chi affonda nel gusto di Bon Rol Aya, il rotolo di tacchino buono e leggero. C'è chi lo scopre ogni giorno, chi lo scopre ogni giorno, chi lo scopre ogni giorno. La mia mamma dice che con Kindle si cresce bene. C'è chi lo scopre ogni giorno. Io non dormo senza te. Magia, magia, giochiamo insieme nel mondo della fantasia. Con Mike, buongiorno. E poi intorno, Brigitte Wilson, Paolo Brosio e Lello Arena, che sono parte della scena. Poiché sono i capisquadra delle tre famiglie in gara. Tre famiglie, tanti bambini, per giocare coi beni amici. Io voglio essere Batman. Io voglio essere Robin. Ne vedrete delle belle sotto l'albero delle stelle. Stasera alle 21 su Canale 5.